Via libera del Governo al conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Approvato anche il nuovo schema di contratto dei manager che prevede, per volere del Presidente della Regione Renato Schifani, obiettivi specifici e concreti, specialmente sulla riduzione delle liste d'attesa, con un monitoraggio trimestrale e una verifica annuale del raggiungimento degli stessi pena la decadenza automatica dei direttori generali anche dopo il primo anno dall'insediamento. Dare una nuova stabilità alla sanità pubblica regionale e abbattere le liste di attesa, dice Schifani, sono due dei principali impegni assunti dal mio Governo sin dal suo insediamento e stiamo lavorando concretamente in questa direzione. La giunta, su proposta dell'assessore alla salute e volo, ha confermato nei ruoli i già commissari straordinari, ad eccezione di quello dell'ASPE di Catania Senzio. La continuità gestionale sarà assicurata dal Direttore Sanitario dell'Azienda Provinciale Etnea. Questi nomi e le destinazioni dei nuovi direttori generali designati nelle aziende sanitarie provinciali, Daniela Faraoni all'ASPE di Palermo, Giuseppe Cucci all'ASPE di Messina, Giuseppe Capodieci all'ASPE di Agrigento, Salvatore Lucio Ficarra all'ASPE di Caltanissetta, Mario Carmelo Zappia all'ASPE di Enna, Giuseppe Drago all'ASPE di Ragusa, Alessandro Caltagirone all'ASPE di Siracusa, Ferdinando Croce all'ASPE di Trapani. Questi invece sono i manager delle aziende ospedaliere a Palermo, Walter Messina all'Arnas Civico e Roberto Colletti agli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, a Catania Giuseppe Giammanco all'Arnas Garibaldi e Salvatore Emanuele Giuffrida al Cannizzaro, a Messina a Catena di Blasi al Papardo, nei policlinici Maria Grazia Furneri a Palermo e Giorgio Giulio Santonoscito a Messina. In precedenza erano già stati nominati Gaetano Sirna al Policlinico di Catania e Maurizio Letterio Lanza all'Istituto Bonino Puleio di Messina. Entro 15 giorni dalla firma dei contratti, i nuovi manager dovranno procedere alla nomina dei direttori sanitari e amministrativi già selezionati dalla Regione.